La ZTL straordinaria, nata in occasione dell'America's Cup per restituire vivibilità all'aria e ridurre l'inquinamento e la congestione veicolare, deve diventare definitiva. E per giungere a questo risultato sono ancora necessari sei mesi di lavoro, sia per approntare le risorse e gli strumenti, sia per consultare cittadini, associazioni, comitati e categorie e coinvolgerle nelle fasi decisionali. Abbiamo assistito in queste settimane a un dibattito molto interessante e molto vero sul fatto che cambiare le condizioni di accessibilità di un'area significa anche cambiarne le destinazioni, la capacità attrattiva o viceversa scoraggiarla. Noi vogliamo che questo sia un luogo molto vissuto, come lo è stato fino ad oggi, però vogliamo che sia fatto con molta più leggerezza e libertà. In questo periodo, a partire da lunedì prossimo, entrerà dunque in vigore un provvedimento temporaneo, del quale esaminiamo ora i punti salienti. Anzitutto le conferme. Resta la pedonalizzazione permanente del lungomare da via Caracciolo a via Partenope e sono confermati sia il perimetro complessivo dell'attuale ZTL, sia tutte le regole di accesso all'area. Cambia invece l'orario, che sarà soltanto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Da sabato 12 maggio aprirà il parcheggio di Viale Dorn, completamente ripavimentato, con 400 posti auto e nuove tariffe che saranno applicate anche agli altri parcheggi della zona. Nuove fioriere in via Caracciolo e Piazza Vittoria favoriranno l'area pedonale, così come nuove aree di sosta per motoveicoli, ed è previsto il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare per la funicolare di Chiaia e gli autobus. Il ridimensionamento è dovuto a questi sicuramente due fattori, tener conto di una serie di obiezioni e tener conto delle risorse effettivamente in campo. Però lo diciamo subito, noi presenteremo a breve il progetto definitivo, che sostanzialmente è il provvedimento originale American's Cup, con i varchi telematici e su questo faremo la consultazione dei cittadini, dei residenti, dei comitati, dei commercianti per poi arrivare alla decisione definitiva.